Per offrire un servizio nel cura migliore a studenti e cittadini si ampliano gli orari di apertura dell'Emeroteca Comunale di Piazza Ortis 4 a Trieste. Dal sabato 6 aprile resterà infatti aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 22.45. In precedenza chiudeva le 19, mentre la domenica osserverà l'orario 10-19 ampliando anche in questo caso la fruibilità di 6 ore, visto che prima la chiusura domenicale era fissata alle 13. Le caratteristiche dell'ampliato servizio di Emeroteca sono state illustrate alla presenza della dirigenza comunale alla quale sono intervenuti il nuovo assessore comunale della cultura, il direttore del servizio civico e bianco a Crudeli e il professore Enrico Tongiorgi. Nel corso dell'incontro il direttore ha sottolineato la positiva collaborazione avviata tra Comune di Trieste dell'Università degli Studi. L'emeroteca di Piazza Ortis è una scialuppa virtuosa che non può bastare, ha aggiunto il nuovo assessore alla cultura del Comune di Trieste ribadendo l'impegno affinché Trieste, la città della letteratura, possa contare su una biblioteca a pieno regime in grado di affidare un servizio fondamentale a giovani, meno giovani e anziani. L'assessore ha in alto confermato l'impegno ad accelerare i tempi per arrivare alla fine del disagio ed alla piena agibilità della biblioteca di Piazza Ortis. Grazie. Grazie. Grazie.